Ale, 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 ale miglia bianconera buonasera a tutti top land top planet sono luigi da bordo visto sto registrando dal mio canapè curva sud twitteriana dove tutte le sere mi apposto e mi preparo per godermi le partite della nostra vecchia signora nonché juventus ieri sera ci siamo qualificati alla grande un risultato un po stretto ma nello stesso tempo giusto potevamo farne di più nello stesso tempo abbiamo calato un po il ritmo per non faticarsi troppo allegri sicuramente voleva vedere più concentrazione e un qualcosina in più io sinceramente non li posso dare sorte ma nello stesso tempo sono contento perché ci andiamo a quarti alla faccia di coloro che ci gufano tutti i giorni di coloro che scrivano tante cavolate su dei fogli di carta sui social e non solo comunque niente ci sono alcuni giocatori che ho visto molto più rilassati in champions che in campionato domenica ci aspetta una partita molto importante e assai dura contro la sampdoria che sicuramente vorrà far risultato ma bisogna farsi trovare pronti denti stretti e con tanta fame di vittoria e come sempre fino alla fine forza juventus grazie